Che cos'è la gelosia? La gelosia è la paura che mi venga portato via qualche cosa che credo mi appartenga. E nelle relazioni sentimentali è molto frequente che crediamo che qualche cosa possa portarci via la persona che crediamo ci appartenga. Intanto dobbiamo tenere presente una cosa, che la gelosia è frutto dell'ignoranza. L'ignoranza di fondo è credere che qualcuno ci appartenga, perché nessuno ci appartiene e quindi nessun altro potrà portarci via qualcosa che di fatto non ci appartiene. Ognuno è in grado di esercitare il suo libero arbitrio. E questo in generale. Poi c'è un altro dato di fatto, che la gelosia allontana le persone a cui teniamo, perché più ci manifestiamo gelosi nei confronti di una persona, più questa persona cercherà di mettere in atto dei meccanismi di difesa, si allontanerà di fatto. E potremmo dire che verrà spinto quasi compulsivamente a fare ciò che cerchiamo di evitare che faccia. E questo è il primo punto. Poi la gelosia nasconde anche della rabbia, nasconde perlomeno dell'avversione verso l'antagonista, che poi però si trasferisce sull'oggetto di desiderio. Se io credo che un bicchiere mi appartenga e la bottiglia si avvicina e parla col bicchiere, io di fatto provo avversione verso la bottiglia. Ma siccome non posso trasferire questa avversione sulla bottiglia, la trasferisco sul bicchiere. E inizio a dire, ma perché hai parlato con la bottiglia? Il bicchiere dice, ma è veramente la bottiglia che hai venuto a parlare con me? No, ma tu eri lì presente, è comunque colpa tua. Insomma, tutta la rabbia e il rancore la trasferisco sul bicchiere, il quale proverà dei sentimenti a sua volta di rabbia, di avversione nei miei confronti. Insomma, si innesca un loop negativo. Come facciamo a eliminare la gelosia? Beh, prima partiamo da una riflessione intellettuale, intellettuale, cioè cerchiamo di riflettere sulla gelosia, su cosa veramente è la gelosia e capire quanto negativa è la gelosia. Questa riflessione intellettuale non ci permetterà di eliminare la gelosia, perché il fatto di capire intellettualmente una cosa non vuol dire che si elimina. Allora dobbiamo fare la cosa, rivivere la cosa in realtà virtuale, in meditazione, ad un livello più profondo, sfruttando la capacità della nostra mente di non avere la capacità di provare due sentimenti opposti nello stesso istante temporale. Cioè io non posso nello stesso istante pensare mi piace il vino e non mi piace il vino. Posso prima pensare mi piace il vino, poi magari in un altro momento no, ma nello stesso istante non è possibile. Per cui andiamo in meditazione, riviviamo una situazione reale in cui siamo gelosi, la riviviamo proprio in realtà virtuale, meditando, e nel momento in cui viene fuori la gelosia manifestiamo il sentimento post, il sentimento in meditazione, il sentimento di libertà, il sentimento di lasciare andare, il sentimento di amore, il sentimento di compassione, se vogliamo. Cioè tutto ciò che è opposto alla gelosia, all'avversione, al risentimento. Lo manifestiamo in quella circostanza, tiriamo fuori tutti questi sentimenti che sono presenti dentro di noi ma normalmente sono nascosti e li proiettiamo su quell'immagine. In questo modo andremo ad eliminare alle radici la gelosia. Ovviamente dobbiamo allenarci, non è detto che una volta sia sufficiente, visto che le abitudini eradicate necessitano di un po' di tempo per esradicarsi, ma abbiamo fatto il primo passo nella direzione giusta. Per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo, vi invito a seguirmi sul blog http www.soluzionavip.com. Ciao!